con la formula dell'artisto che è una vecchia previsione del premio Sardi quella degli inizi degli anni 50 e che è stata ripristinata 5 anni fa quindi 3 premi speciali ma anche 2 menzioni che vuol essere un riconoscimento per artisti che hanno presentato lavori apprezzabilissimi e quindi hanno avuto una menzione d'onore ma io siccome ho partecipato come, come posso dire se c'è da aria, se c'è da costruire alla pionella della giuria ho avuto modo di capire che i lavori veramente sono stati in ottimo livello quasi tutti, siamo in tutti e quindi questo qualifica ancora di più questa 66esima inizio è stato detto, ringraziamo veramente tutti gli artisti che hanno partecipato con un'attenzione particolare anche ai giovani di accademia e agli artisti stranieri che stanno qui per il primo anno e allora passiamo subito alla prima menzione una menzione d'onore è stata assegnata dalla giuria ad Alessandro Gagliardini che è un giorno di profondità di accademia le sue fotografie ci istituiscono ora immagini in dissolvenza che conducono ai luoghi della mente e a percezioni inespresse ora a immagini che rimandano a luoghi di appartenenza il titolo della sua opera con un sapiente equilibrio tra luci ed ombre grazie la seconda e seguo con la prima ovviamente va a Michele Oniccioli per la sua capacità di utilizzare il segno articolato in differenti modalità che denota le sue radici e la sua formazione culturale visiva viene abilmente superata nei lavori storia dello studente e trittico del mare Sciacca composizioni come frame di una sequenza cinematografica di efficacia bilvisivo dipinti in cui emerge una sintesi di figurazione e narrazione enfatizzata da suggestioni cromatiche che invitano ad oltrepassare il puro aspetto figurativo quello che voi vedete è come dire essenzialmente la motivazione a cui è riferita il titolo del testo ci sono altre opere di lui dove l'artista si esprime in una maniera più tradizionale allora la motivazione invece fa leva proprio sul superamento di quella tradizione per andare a questa sintesi formale e con l'ordiniera della tua tradizione si, si, di cui parlava di cui parlava giusto altro premio, questa non è italiana, è giapponese è voluta tornare in Giappone e per questo non rispondeva al telefono la conosco da diversi anni ha partecipato alle ultime 4-5 ore a segno è brava a parlare italiano un po' meno non ci riesce mai bene Isako Mori Isako Mori la ricerca di Isako Mori esprime con eleganza formale i caratteri estetici della sua cultura di origine le sue opere evidenziano leggerezza visiva e filosofica e al contempo desiderio di permeare gli aspetti più profondi delle cose le sue foglie come metafora dell'esistenza le sue foglie come metafora dell'esistenza e dello scorre del tempo cristallizzate in griglie come sfaccettature della vita l'evanescenza del colore e la tecnica personale riassumono con fluidità passato e presente applausi il terzo e l'ultimo prendeo questo la vista del supporto e della inusuale tecnica carboncino colpiscono per forza espressiva e nitido realismo caratterizzato da notevole abilità senica in grado di far emergere aspetti interiore il suo lavoro ci restituisce freschezza e contemporaneità di un linguaggio antico grazie a tutti grazie a tutti